Ciao a tutti Un altro giorno nel volto è 369 Questa volta abbiamo un voto un po' meglio, un po' migliore 120 tappi sono tutti per noi Iniziamo raccogliendo un po' di cose Chi si ricorda cosa dobbiamo fare Dobbiamo far rivivere Il mostro Tre cani che è veramente un gran peccato che sia Che sia morto Due Che baffoni sono fatti questi due Questi sono i due bambini che avevamo visto l'ultima volta Che sono ovviamente cresciuti E' tempo di trovare anche per loro un'occupazione Vedete che produciamo una buona quantità di acqua Una buona quantità di cibo Una buona quantità di elettricità Potremo provare a diversificare Visto che quando avremo fatto riprendere tre cani Sarà necessario creare Un Avere un pochettino più di spazio per gli oggetti Che sicuramente lui avrà creato Avrà porterà con sé Perché lo sappiamo già Allora ecco che Ci servirà un ripostiglio Che aumenti un pochettino questo spazio Allora il primo è il nostro Kevin Shaw Che ha un gran carisma E quindi insomma meriterebbe di Essere un riproduttore per così dire Perché abbiamo una grande intelligenza Allora il nostro Anthony Allen Lo mandiamo Qua sotto A lavorare alla produzione di Steam Pack Mentre Kevin Shaw Che ha una costituzione 1 E quindi francamente inutile Francamente inutile Ah ma il ripostiglio non ha visione di nessuno L'ho scoperto adesso Il ripostiglio non aveva visione di nessuno Allora mandiamoci A questo punto Un'altra gentile donzella Per Come dire La riproduzione Potremmo mandare la nostra Julie Snyder Perché Soprattutto Non direi di non muovere qualcuno per l'acqua Perché ne abbiamo bisogno Andiamo lei va Ma andiamo lei su Ok 855 Crediti Quindi Se siete d'accordo Piccolo taglio E quando ne avremo mille Torniamo Per far vivere il nostro treccani A dopo Riprendiamo Perché Come potete vedere Abbiamo un piccolo attacco in corso Direi che E' necessario Mandare Gli uomini Ad occuparsi dell'attacco Insomma Meno quelli con le armi Adesso non ricordo esattamente chi siano Lui ad esempio Le armi Fantastico Lui no Lui no Lei no Lui fucile Ottimo Ma sono già spostati Maledetti predoni Ma stacca da bigliardo E' un'arma anche quella Vedete che stanno combattendo Tanto che il meccanismo di passaggio Di cambiamento di posizione Potremmo anche farlo migliore Oh Un bel Ficilozzo Ovviamente forniamo Il fruto a lui Affinché possa anche magari aiutare Nel lavoro Direi che si sta per spostare giù Quindi spostiamo tutti giù Come te no Te non serve niente Te anche Tappi Penso che ci daranno i tappi Ricordarsi dove erano tutti posizionati Insomma Allora 972 Proviamo lo sprint E magari riusciamo ad avere subito Quello che ci serve Successo Un po' di tappi 1.6 E allora C'è una cosa sola da fare Tra l'altro vorrei far notare Che questa coppia Che ho cercato di creare Cioè i nostri Karen Mills E Kevin Shaw Se ne sbattono assolutamente Di cosa stanno facendo E Continuano a cazzeggiare Per fatti loro Tra un po' Probabilmente si riprodurranno prima Eugene Shaw e Catherine Thompson Che sono L'altra coppia Che sto cercando di formare Insomma Va bene Andiamo a far tornare Il nostro Tre cani Rianimiamolo E facciamolo tornare a casa Insomma Tornerà fra 9 ore e 24 Quindi Tornerà al prossimo Al prossimo aggiornamento Tornerà con tantissimi Oggetti A vedere così Insomma Ok Allora A questo punto Direi Facciamo partire Una piccola Missione esplorativa Abbiamo qualche Ometto in più Direi che possiamo permettercelo Vediamo un attimino Chi ha Le armi migliori Abbiamo Il nostro Kyle Price Che ha un fucile da caccia 5-6 Vediamo tutte le armi Allora Ci abbiamo Il fucile a canemozze Ho sbagliato Vabbè Gli abbiamo dato il fucile a canemozze A Kyle Price E Joshua Cox E Joshua Cox Ha il fucile da caccia Quindi Kyle Price E Joshua Cox Possiamo mandarli Mandiamo ancora uno Insomma Tanto Mentre Mentre la dietro Mentre la dietro si riproducono Le lasciamo da lì Magari Appena torna l'altro Fa doppietta Ok Vediamo un attimino Abbiamo detto quindi Kevin Show Joshua Cox E Kyle Price E Kyle Price Partiranno per una missione Vediamo un po' Quale missione possiamo fare Aiuto il colono perduto Mh Ventracci rapitori Caccia al cestino Eh livello 10 Forse un pochettino alto Esperimenti Voltec Bordate Livello 5 Sì dai Potremmo fare questo La ricerca di Paula Segui il percorso di Paula Plumkin Fino al volto E 7 3 0 Fornisci fuoco di supporto A livello 20 Non possiamo permettercela E Indaghiamo sulla strana Trasmissione radio 7 ore E Ce la vedremo La prossima volta Allora Abbiamo detto Joshua Cox Se non sbaglio Kyle Price Non sono perso Joshua Cox Kyle Price E E E E E Mensa 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 Qualcun altro che è in Mensa Solo loro Non mi fa mettere nessun altro Brian Payne No Vabbè Prima ricordiamo Ah perché devono essere almeno di quel livello Perfetto Quindi non posso mandare altri Che non abbiano almeno quel livello E Lui è livello 4 Quindi non possiamo farlo muovere Lui è livello 1 E per quello che Kevin Shaw Non ce lo faceva mandare Credo Ok Kyle Price Mandiamo Kyle Price e Joshua Cox Insomma Mi sembra una missione particolarmente complicata Quindi direi che Kyle Price E Joshua Cox E 1 E Kyle Price Gli forniamo 5 Steampack E Partono per la missione La signorina che intanto è rimasta incinta La mandiamo Qui Ma forse il problema a questo punto è lei Che non vuole rimanere incinta Perché altre idee Non mi vengono in mente Sta da andare Proviamo a mandarlo via E poi rimandarlo qua Vediamo se Riusciamo a concludere qualcosa A sto punto Forse si Forse si Forse no Chissà Va bene Non importa Tu vai a gestire il deposito Anzi Tu vai a gestire il deposito E tu Vai a Produrre cibo Sperando che la tua costituzione Non sia proprio uno E 1 Perfetto Vabbè Te cosa puoi fare di buono Lei ha un 3 di percezione Quindi teoricamente E Buona nel depuratore dell'acqua Vediamo un po' 2 di costituzione 3 di percezione anche lei Va bene così Lui ha 2 di costituzione 2 di percezione 5 di percezione Direi che non la muoviamo 3 di percezione 2 di costituzione Non troviamo neanche te 2-1 Francamente inutile 2-1 Francamente inutile di là Uh Infestazione di scarafaggi Vabbè Stupidaggini Mandiamo Qualcuno con qualche arma A combattere Ma Non dovrebbero esserci grossi problemi Caspita Stanno un po' Diffondendo E non fa Vediamo se riuscite A fare qualcosa Magari per farli fuori Ah si sono diffusi Da una stanza All'altra Interessante Non sarebbe male Veni occupassi Però Vabbè Hanno già risolto Perfetto Stiamo dicendo Come vedete La donna incinta Non partecipa Anzi scappa Dal rischio in corso Stiamo dicendo Che tu hai Un bellissimo 3 di percezione Quindi Prendiamo Lui Che ha 2 Lo spediamo qua E al suo posto Ci mettiamo lei Ok Adesso aspettiamo solo che Si spostino Direi che è tutto Abbiamo quindi 2 uomini partiti Per la missione Abbiamo il nostro Treccani Che sta tornando Che poveretto Magari aveva bisogno Anche di riprendersi Un po' Speriamo di aver Trovato qualche Run the way Non ha trovato Run the way Fantastico Quindi Vedremo un attimino Cosa riusciremo a trovare Facciamo magari Un po' di spazio Nel nostro ripostiglio Perché avremo bisogno Ovviamente Di Portare oggetti 16 posti ancora vuoti Direi che avremo di tutto In modo da poter dare vestiti Un po' a tutti Direi che con questo è tutto Mi sono forse perso Un pochettino in chiacchiere Ci vediamo la prossima volta Tornerà a tre case Tre cani E vedremo un'altra missione Ciao a tutti